La polizia ha cercato di usare la sua famiglia per costringerla a comportarsi da Giuda. L'anziano padre si è messo in ginocchio davanti a lei. I suoi figli l'hanno supplicata, il marito e lo zio l'hanno ammonita. Gli affetti carnali da una parte, gli interessi della Chiesa dall'altra. Si è trovata tra l'incudine e il martello. Nella disperazione ha pregato e ricercato la verità e alla fine ha trionfato sulla tentazione di Satana, affidandosi alle parole di Dio. Mio padre era un preside e parlava spesso di materialismo sia a scuola che a casa. Ci ha insegnato che la felicità dipendeva dal nostro duro lavoro, che dovevamo applicarci per onorare i nostri antenati e per distinguerci. Sull'esempio dei nostri genitori, io e i miei fratelli abbiamo sempre lavorato sodo. Abbiamo avuto buoni esiti come funzionari e nel commercio. Nella primavera del 2007, ho accettato l'opera di Dio Onnipotente degli ultimi giorni. Leggevo le parole di Dio e condividevo con i miei fratelli regolarmente, comprendendo la sovranità di Dio. Queste parole mi hanno colpita. Dio ha creato questo mondo, ha creato il genere umano ed è stato l'architetto della Sua civiltà e dell'antica cultura greca. Solo Dio consola questa umanità e solo Lui se ne prende cura notte e giorno. Lo sviluppo e il progresso umano non possono essere separati dalla sovranità di Dio e la storia e il futuro dell'uomo sono inscindibili dai disegni di Dio. Se sei un autentico cristiano, allora sicuramente crederai che il sorgere e il tramontare di ogni paese o nazione avvengano conformemente ai disegni di Dio. Dio solo conosce il destino di un paese o di una nazione. E Dio solo controlla il corso dell'intera umanità. Se l'umanità desidera avere un buon destino, se un paese vuole avere un buon destino, allora l'uomo deve adorare Dio, pentirsi e confessarsi davanti a Lui. o il fato e la destinazione dell'uomo saranno una inevitabile catastrofe. Amen. Le parole di Dio mi hanno illuminato il cuore. Dio è il Creatore ed è Lui che ha sostenuto l'uomo fino a oggi. Inoltre, Egli governa i nostri destini. Solo adorando Dio, pentendoci e accettando la Sua salvezza, possiamo avere un buon destino. Dio Onnipotente è venuto negli ultimi giorni per compiere l'opera di giudizio, purificare e salvare l'umanità, liberarci dall'influenza di Satana e condurci alla destinazione che Dio ha predisposto, in modo che possiamo avere un buon esito. Mi sentivo benedetta per aver accettato Dio Onnipotente e ho giurato a me stessa che avrei praticato bene la mia fede e svolto il dovere di un essere creato per ripagare Dio. L'odio. Dio si è lodato. Ma poi, mentre mi dedicavo al mio dovere con zelo, sono stata arrestata dal PCC. Un giorno di marzo del 2009, a mezzogiorno, la polizia è venuta a un incontro, ha preso me e tre sorelle e ci ha trattenute illegalmente. Il capo della pubblica sicurezza mi ha urlato contro «Dicci quello che sai! Chi vi ha convertite? Chi è il leader della tua chiesa? Se parli, ti lascerò tornare subito a casa. Ma se non collabori con tutti i libri religiosi che abbiamo trovato da te, possiamo condannarti a sei anni». L'espressione feroce del Suo volto mi dava le palpitazioni. Non avevo idea di come mi avrebbero trattata. Ho detto subito una preghiera, chiedendo a Dio di vegliare su di me e di darmi la forza. Poi ho pensato a queste parole di Dio. «Coloro che sono al potere potranno sembrare malvagi, ma non abbiate timore. Questo avviene perché avete poca fede. Purché la vostra fede cresca, nulla sarà troppo difficile». Amen. Queste parole mi hanno dato la forza. Tutto è nelle mani di Dio, senza eccezioni. Anche il capo della pubblica sicurezza incuteva paura, ma era uno strumento al servizio di Dio. Solo Dio poteva decidere se sarei stata condannata o no. Non potevo arrendermi ai soprusi. Con le parole di Dio a guidarci, abbiamo fede e forza. È vero. Vedendo che non parlavo, hanno rinchiuso me e le altre in un centro di detenzione, con l'accusa di aver turbato l'ordine sociale. Una mattina, ho sentito qualcuno urlare il mio nome. Il cuore mi è saltato in gola. Volevano interrogarmi ancora. Lo avevano già fatto e non avevo detto nulla. Mi chiedevo se avrebbero usato tattiche più crudeli. Spaventata, ho pregato Dio in silenzio e pian piano sono riuscita a calmarmi. Mi hanno portata in una grande stanza. Appena è entrata, ho visto mio padre e mi sono sentita mancare. Perché lo avevano convocato lì? Si era sempre opposto alla mia fede. Come mi avrebbe trattata, ora che ero in prigione? Prima che potessi parlare, mio padre ha alzato una mano e mi ha colpita per tre volte alla testa. Ho visto le stelle. Mi ha detto duramente, te lo avevo proibito, ma tu hai insistito. E ora che ti hanno arrestata, il mio nome è stato trascinato nel fango. Di loro tutto ciò che sai sulla tua fede. La polizia ti lascerà andare quando avrai confessato, mentre se non lo fai, ti condanneranno. Il volto invecchiato di mio padre mi ha dato una fitta al cuore. aveva quasi 80 anni e per lui la sua reputazione era la cosa più importante. Come avrebbe potuto sopportare una mia condanna? Poi si è inginocchiato. Con le lacrime agli occhi ha detto, quando tua madre lo ha saputo, si è ammalata gravemente. Ora è a letto con una flebo. Di loro quello che sai e torna a casa. Deve essere stato molto difficile per te. Sì. Di fronte a tutto questo, non ho potuto trattenere le lacrime. Fin dai tempi antichi, sono i figli a inginocchiarsi davanti ai genitori. I miei genitori si erano sacrificati per crescere me e i miei figli. Dovevano ancora preoccuparsi per me in così tarda età. Stavano affrontando un tale dolore perché ero una credente. Ero in debito con loro. Stavo malissimo. Poi ho capito di non essere nello stato giusto. Ho detto una rapida preghiera. Dio, questa situazione è dolorosa per me. Mi sento in debito con i miei. Non so cosa fare. Ti prego di guidarmi affinché possa capire la Tua volontà. Poi ho pensato a ciò che mi ero ripromessa di fare davanti a Dio. Essere forte nella fede, seguirlo e amarlo sempre. In quel momento sono tornata in me. Ho pensato a queste parole di Dio. Forse l'uomo è incapace di ignorare la carne per così breve tempo. Cosa può scindere l'amore fra uomo e Dio? Chi può separare l'amore fra uomo e Dio? Forse genitori, mariti, sorelle, mogli o un affinamento doloroso. I sentimenti di coscienza possono forse spazzare via l'immagine di Dio nell'uomo? Il debito di uno verso l'altro e le azioni reciproche sono opera dell'uomo? Può l'uomo porvi rimedio? Chi può proteggere se stesso? Le persone sanno provvedere a se stesse. Chi è forte nella vita? Chi può abbandonarmi e vivere per conto Suo? Amen. Le parole di Dio mi hanno colmata di rimorso. Il mio respiro mi è stato donato da Dio e Lui mi dona il necessario per sopravvivere. Se ero viva, era solo grazie alla protezione e alla cura di Dio. Ha disposto tutto per guidarmi davanti a Lui ad accettare la Sua salvezza. L'amore di Dio è grande. Non potevo tradirlo per paura di ferire i miei genitori. La loro salute era nelle mani di Dio e ogni mia preoccupazione era del tutto inutile. Erano addolorati a causa dell'oppressione del partito. Se lo avessero capito, non avrebbero provato vergogna e Satana non avrebbe potuto ingannarli. A questo pensiero non mi sentivo più turbata. Pur finendo in carcere, sarei rimasta salda nella testimonianza. Amen. Ho asciugato le lacrime e tirato su mio padre. Poi, alcuni agenti mi hanno circondata. Ho detto loro, non so proprio nulla. Uno mi ha fissato e ha detto, vi restano solo cinque minuti. Furioso, mio padre mi ha colpito ancora e ha detto, se non parli, resterò in ginocchio fino alla morte. Il partito non ammette alcuna fede, come osi contrastarlo. Sbrigati a confessare, così potremmo tornare a casa. Ho capito che si trattava di un trucco della polizia. Volevano che mio padre mi spingesse a tradire e vendere gli altri. Sì. Quei poliziotti sono così infidi. È vero. Sì. Ero arrabbiata e indignata. Ho aiutato mio padre a rialzarsi e gli agenti mi hanno di nuovo circondata. Li ho guardati e ho detto, non so proprio nulla. In quel momento, il telefono di mio padre ha squillato e lui ha fatto rispondere me. Era mia madre che ha detto imprecando, mi condurrai alla morte. Il governo non permette la fede. Non puoi combatterli. Di loro quello che sai e torna a casa. Che sarà di noi se verrai condannata? E tuo figlio come troverà moglie? E anche noi verremo umiliati. Pensa a noi. Ho riagganciato in lacrime e ho guardato mio padre uscire sconfortato. Tornata nella cella, ho pensato a mia madre malata. Se le fosse successo qualcosa, non le sarei stata accanto. Più ci pensavo, più mi sentivo male. Allora ho capito che i miei affetti erano il mio punto debole. Ho pregato Dio con tutta me stessa. Gli ho chiesto di guidarmi a non vivere in base alle emozioni. Mi sono ricordata di queste sue parole. Perché è difficile separarsi dall'emozione? Farlo va forse oltre i criteri della coscienza. La coscienza può compiere la volontà di Dio. L'emozione può aiutare le persone nell'avversità. Agli occhi di Dio, l'emozione è Sua nemica. Non è stato detto nelle Sue parole. Amen. Queste parole mi hanno aperto gli occhi. Le emozioni sono il nemico di Dio, l'ostacolo alla pratica della verità. Quando seguiamo le emozioni, ci allontaniamo da Dio e lo tradiamo. Ero impantanata nei sentimenti. Credevo che non obbedire ai miei mi rendesse una cattiva figlia. Quando li ho visti sconvolti per il mio arresto, mi sono sentita in debito, come se nonostante avessero faticato tanto per crescermi, io non li avessi ripagati e li facessi soffrire per me. Apprezzavo la bontà dei miei, ma dimenticavo che è Dio a darci la vita. Dio è la fonte della vita ed è stato il Suo soffio vitale a sostenermi fino a oggi. È grazie alla Sua guida che ho quello che possiedo. Dio ci ha dato così tanto, senza mai chiedere nulla in cambio. Proprio così. Negli ultimi giorni, Dio si è incarnato per salvare l'umanità, sopportando umiliazioni ed è stato braccato e oppresso dal partito. Dio ha dato tutto per l'umanità. Il Suo amore è grande. È Dio che dobbiamo adorare davvero. La cura dei miei genitori poteva migliorare la mia vita materiale, ma non offrirmi la verità. Non potevano salvarmi dalla corruzione di Satana né darmi una buona destinazione. Giusto. Certamente no. Se avessi venduto gli altri e tradito Dio per il bene dei miei, non sarei stata in debito con loro, ma Dio mi avrebbe disprezzata e avrei perso la Sua salvezza. A quel punto ho capito che Satana stava usando l'amore per i miei per indurmi in tentazione, per farmi allontanare da Dio, tradirlo, perdere la mia salvezza ed essere distrutta. Non potevo cadere nel tranello di Satana. Sì. Lode a Dio. Questa è un'ottima comprensione delle cose, davvero motivante. Sì. Mi ricorda Pietro che prese posizione contro i suoi genitori, rimase saldo nella fede e seguì il Signore Gesù nonostante loro. Il Suo amore per Dio trionfò su tutto ed Egli ottenne la Sua approvazione. Esatto. Il quinto giorno, la polizia mi ha portato tre lettere scritte da mia madre e i miei figli. Mio figlio scriveva «Mamma, in questi anni passati nell'esercito non vedevo l'ora che tutta la famiglia si riunisse. Non è stato facile per me tornare e tu ora sei in arresto. Senza di te a casa, mi sento completamente perso. Mamma, racconta alla polizia le tue cose di fede. Se vai in prigione, mi sarà difficile lavorare e sposarmi. Se non pensi a te stessa, dovresti almeno pensare a me». A quel punto, non ho potuto fare a meno di piangere. Se la mia pena avesse davvero rovinato il futuro di mio figlio, come l'avrei guardato in faccia, mi avrebbe odiata. Mi sembrava che la strada della fede fosse piena di inciampi e che ogni passo richiedesse una scelta. Ho pregato Dio nel mio cuore. Oddio! Sono addolorata e mi sento debole. Veglia sul mio cuore e rafforza la mia fede. Tornate in cella. Una sorella ha capito cosa provavo e ha detto di non cadere nei tranelli di Satana. È stato un campanello d'allarme. Ho pensato a come, in ogni momento, Satana ricorra a mezzi di ogni sorta per indurci a tradire Dio. Se abbassiamo la guardia, possiamo cadere nella Sua trappola. Dobbiamo acquietare i nostri cuori davanti a Dio, pregare e affidarci a Lui per ottenere la Sua protezione e rimanere ben saldi. Giusto. Quella notte non sono riuscita a dormire e ho pregato Dio in silenzio. Ho rammentato queste Sue parole. Dal momento in cui vieni piangendo in questo mondo di uomini, inizi a compiere il Tuo dovere. Per il piano di Dio e per il Suo ordinamento, tu svolgi il Tuo ruolo e intraprendi il viaggio della Tua vita. Qualunque siano le Tue origini e il viaggio che Ti si prospetta davanti, nessuno può sfuggire alle orchestrazioni e disposizioni del cielo e nessuno ha il controllo del proprio destino, perché soltanto Colui che governa tutte le cose è capace di tale opera. Amen. Amen. Già. Per tutta la vita, i nostri destini sono stabiliti da Dio e nessuno può cambiarli. Non potevo decidere che tipo di lavoro o matrimonio avrebbe avuto mio figlio. Per quanto bene volessi ai miei figli, non potevo cambiare il loro destino. E anche se fossi finita in prigione o no, era deciso da Dio. Non potevo evitarlo solo perché lo volevo. Quello che dovevo fare era affidare tutto nelle mani di Dio e sottomettermi alla Sua sovranità. Sì, sottometterci a Dio ci libera da ogni preoccupazione. È vero. Poi ho pensato a un altro passo delle parole di Dio. Devi patire privazioni per la verità, darle te stesso, sopportare umiliazioni per essa e per ottenere ancora più verità, devi subire ulteriori sofferenze. Questo è ciò che dovresti fare. Non devi gettare via la verità per una vita pacifica in famiglia e non devi perdere la dignità e l'integrità della tua vita per un piacere effimero. Dovresti perseguire ciò che è bello e buono e cercare un cammino di vita più significativo. Se conduci un'esistenza così mediocre e non persegui alcun obiettivo, non stai sprecando la tua vita. Che cosa puoi guadagnare da una vita del genere? Dovresti rinunciare a tutti i piaceri della carne per il bene di una verità e non dovresti gettare via le verità a motivo di un trascurabile piacere. Persone simili non hanno integrità né dignità né una vita significativa. Amén. Tali parole mi hanno dato fede e forza. Per ottenere l'approvazione di Dio, dobbiamo perseguire la verità e compiere il dovere di un essere creato. Solo questa può considerarsi una vita di valore. Vale la pena soffrire per acquisire la verità? Decisamente. Se vendessi i miei fratelli e la chiesa solo per soddisfare la mia famiglia, sarei un giuda che tradisce Dio. Sarebbe un'umiliazione e Dio mi maledirebbe. Anche con una famiglia felice e una vita confortevole, nulla avrebbe significato e io sarei solo un cadavere ambulante. A questo pensiero, ero ancora più decisa a seguire Dio. Nonostante le tattiche dei poliziotti, avrei testimoniato Dio e svergognato Satana. Lodi a Dio! Il sesto giorno, mi hanno portata nella sala principale, dove ho trovato mio zio, mio marito e i miei figli. I miei figli mi hanno abbracciato, dicendo in lacrime, «Mamma, torna a casa!» Mio marito piangeva in disparte. Poi mio zio mi ha detto, «Ling Min, la polizia ti rimanderà a casa non appena confessi e non sconterai alcuna pena. Il futuro di tuo figlio sarà rovinato se vai in prigione, distruggerai la famiglia.» Dammi retta e confessa alla polizia. In quel momento ero serena, sapevo che le pressioni della mia famiglia celavano le trame di Satana e che se avessi detto poco, mi avrebbero estorto altro e tanti fratelli sarebbero stati arrestati. Alla luce di questo, ho risposto, «Da credente, sto percorrendo la retta via. Non ho fatto nulla, quindi non ho nulla da dire. Andate a casa!» Mentre tornavo in cella, pensavo alla polizia che usava i miei cari per tentarmi, per costringermi a vendere i miei fratelli e a tradire Dio. Il partito è così vile. Sono dei demoni avversi a Dio. È vero. Dopodiché, un agente mi ha convocata nell'ufficio e mi ha detto, «Com'è andata con la tua famiglia? Vederlo godere di quella situazione mi ha fatta infuriare. Ho preso le tre lettere, le ho strappate e gettate sul tavolo dicendo, «Sono una credente e una persona onesta. Non ho fatto nulla di male. Perché li avete coinvolti? Quale legge ho infranto?» Dopodiché, me ne sono andata. Sia lodato Dio. Se ho affrontato con calma l'interrogatorio, è stato merito della forza che Dio mi dava. Il quattordicesimo giorno, il capo di pubblica sicurezza mi ha convocata. Non era più sprezzante. Al contrario, mi ha chiesto della mia famiglia. Ha tentato di indurmi a vendere i miei fratelli con discorsi elaborati. Ho pregato Dio senza sosta, chiedendogli di proteggermi dal tranello di Satana. Il capo ha parlato a lungo. Alla fine, vedendo che non dicevo nulla, si è infuriato e ha urlato, «Sarò sincero con te. Abbiamo trovato così tanti libri in casa tua che è il caso più eclatante della città. Se non parli, finirai sicuramente in prigione. Ma qualunque cosa dicesse, io pregavo in silenzio e giuravo a me stessa che non avrei mai tradito Dio e i fratelli, neanche se fossi stata condannata». Alla fine, ti hanno messa in prigione? No. Dopo quindici giorni, hanno visto che non mi avrebbero estorto nulla e mi hanno rimandata a casa. Lodi a Dio. Tutto è nelle mani di Dio. Giusto. Tornata a casa, la mia famiglia ha continuato a opporsi alla mia fede. Sapevo che era a causa delle menzogne del Partito Comunista, ma per quanto dura fosse, avrei seguito Dio fino alla fine. Amen. Poi mi è tornato in mente l'inno «Progredire sul cammino dell'amore per Dio». Non importa quanto possa essere arduo il cammino della fede, la mia unica missione è fare la volontà di Dio, tantomeno se in futuro avrò benedizioni o disgrazie. Ora che sono decisa ad amare Dio, sarò leale fino alla fine. Non importa quali pericoli o difficoltà siano in agguato e non importa come finirò. Per accogliere il giorno di gloria di Dio, seguo da vicino le Sue orme, andando sempre avanti. Amen. Cantavo quell'inno in continuazione, mi sentivo ispirata. Sapevo che il cammino di fede sarebbe sempre stato ostacolato dal partito e che in futuro potevo essere arrestata ancora o condannata. Ma era la vera via ed ero pronta a seguire Dio fino alla fine. Per un po' non ho potuto contattare i fratelli né vivere la vita della Chiesa. Così mi sono munita della verità in casa e ho condiviso il Vangelo in famiglia. Mio marito e mia figlia sono diventati credenti. È meraviglioso. Sì, lo è. Ci riunivamo e ci nutrivamo delle parole di Dio. Un anno dopo, ho ripreso i contatti con i fratelli e a svolgere un dovere, ero davvero grata a Dio. Per tutto il tempo, durante l'arresto da parte del partito e gli attacchi della mia famiglia, è stata la guida delle parole di Dio a farmi superare ogni cosa. Per quanto difficile sarà il mio cammino, seguirò Dio fino alla fine. Dio sia lodato. Lode a Dio. Affidiamoci alle Sue parole. Dio sia lodato. Dio sia lodato. Dio sia lodato. Grazie a tutti.